ragazzi finalmente ho un po di tempo faccio qualche video da scrivania cercando di dare un po di risposte alle vostre domande nella top 10 la prima domanda che mi fate spessissimo è come faccio a dimensionare correttamente il puffer che è quel bidone di acqua per il riscaldamento e l'acqua sanitaria per casa mia ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa si parla di super bonus 110 eco bonus e il grande conto energia termico 2.0 ma qual è il contributo migliore che fai caso tuo è questa una risposta importante da ricevere ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua così da avere tre cose caldo in casa abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente in descrizione trovi il link del modello di preanalisi clicca compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto riscaldamento e contributi e intanto questo video come al solito te lo offro io ciao allora la risposta è come al solito quella che è difficile darti una risposta chiara che casino ho fatto però è veramente difficile darti una risposta chiara senza vedere come è fatta a casa tua ecco perché consiglio sempre di compilare il modello di preanalisi il modello di preanalisi con biomassa evolution non è altro che una radiografia di casa tua dove con tutta una serie di domande ho quella che è proprio la casa tua comunque per dimensionare correttamente un puffer così detta un po anpassant si dice anpassant ci vogliono almeno 4 caratteristiche il primo è capire quanti kilowatt di potenza la tua caldaia sapere anche poi se è una caldaia pelle tua legna perché le varie potenze pelle tua legna sono diverse quindi anche i litri variano poi bisogna capire il volume di casa tua quindi quanti metri cubi devi riscaldare come è costituito il tuo impianto se impianto a radiatori quindi alta temperatura impianto a bassa temperatura se in alta temperatura adesso ti do qualche chicca così bisogna capire la tipologia di termosifoni se sono in ghisa alluminio ferro se sono sotto o all'interno della nicchia dove c'è il davanzale di casa tua quindi sono incassati o se sono esterni muro perché lì le potenze poi variano e anche se è un monotubo oppure no l'impianto di riscaldamento oltre a questo bisogna anche capire quanti siete in casa e quanta acqua sanitaria voi consumate perché perché più siete e più utilizzo fatte di acqua sanitaria più i volumi del puffer devono per forza diventare grandi quindi lo so come solito non ti ho detto niente perché di base ci vuole sempre un protocollo quindi compila il modulo dal modulo capisco un po come è fatta a casa tua se poi aderisci al primo passaggio del soprologo tecnico meglio ancora perché tecnicamente fisicamente venendo a casa tua con i miei tecnici riesco a darti un'idea di come si dimensiona correttamente un puffer ok spero di essere stato abbastanza non chiaro ci vediamo ciao ragazzi ciao ciao ciao